La campagna vaccinale 2020 contro l'influenza si prospetta essere una delle più importanti mai pianificate. Azure Market ha programmato diversi interventi di ampliamento dei servizi per poter rispondere a quella che, secondo l'opinione comune, sarà una richiesta in crescita da parte dei cittadini. Come affermato dall'azienda sanitaria regionale, ma anche da medici e dottori, effettuare il vaccino anti-influenzale per la prossima stagione invernale significherà in primo luogo concedere una possibilità maggiore ai medici di isolare casi sospetti di Covid, vista la somiglianza di sintomatologia, e poter quindi intervenire più rapidamente per diagnosticare l'infezione scatenata dal virus. Come riferisce il direttore generale di Azure Market, Nadia Storti, quest'anno l'inizio della campagna, seguendo l'invito mosso dalla circolare del Ministero della Salute, è stato anticipato di qualche settimana. Se la consegna delle dosi sarà rispettata e quindi effettuata come da programma nelle prime giornate del mese, i vaccini saranno disponibili già a partire dalla metà di ottobre. Si ampliano inoltre le fasce di popolazione per cui la vaccinazione, oltre che essere maggiormente raccomandata, sarà anche gratuita. In primis i soggetti dai 60 anni in su e non più gli over 65 come nelle stagioni passate, ma anche i bambini con età inferiore ai 6 anni. L'obiettivo di Azure è di riuscire a coprire tra il 70 e l'80% della popolazione, garantendo il servizio per le persone considerate più a rischio o come nel caso dei bambini in cui la possibilità di circolazione dell'influenza è più elevata. Per coprire i numeri ipotizzati dall'azienda sanitaria sono state acquistate più di 400.000 dosi di vaccino a livello regionale, con un incremento del 40% rispetto agli anni passati e di queste più di 90.000 saranno destinate alla provincia di Pesaro Urbino. Nel frattempo si valuta la possibilità di poter effettuare la campagna vaccinale non solo all'interno delle strutture convenzionali, ma anche in aree pubbliche messe a disposizione dai comuni, per evitare un'elevata concentrazione di persone all'interno di ambulatori o studi medici. C'è preoccupazione invece da parte delle farmacie sulla richiesta e soprattutto sulla disponibilità a reperire le dosi per tutti i soggetti che non rientrano nelle categorie precedentemente specificate e che quindi per poter avere il vaccino dovranno acquistarlo. Non resta quindi che attendere le prossime giornate per verificare l'andamento di richieste e tempistiche. Grazie. Grazie.